aggiornamento meteo lunedì 14 ottobre ore 17 ora locale canaria guardate il cielo è simile ieri sera per chi avesse visto lo short che ho pubblicato in piscina da questo lato c'è il sole con qualche piccola nuvoletta poi come ci giriamo guardate la in fondo nuvole grigie minacciose aspettate che mi sposto che magari si vedono meglio quindi ora la domanda è pioverà stasera le previsioni dicono di sì speriamo di no anche se in realtà l'isola ha bisogno di un po di acqua a essere onesti o eccoci qui in mezzo al nulla diciamo che da questa posizione si vede decisamente meglio vedete la in fondo ci sono le montagne sottospecie di montagne guardate tutte queste nuvole grigie ma prima era ancora peggio c'erano dei nuvoloni proprio minacciosi adesso invece il cielo si è liberato un po infatti vedete girandoci è tutta un'altra cosa io non credo proprio che venga a piovere perché spesso poi tra l'altro qua si sbagliano a fare le previsioni fortunatamente e quindi sì no in realtà l'isola è molto secca ha piovuto poco e niente ecco perdonatemi per il vento cercherò di stare più vicino possibile al telefono quindi a parte qualche quando è mamma che ha piovuto ieri l'altro ieri che ci ha allagato lo sgabuzzino cos'è stato sabato si ecco quindi ieri niente vero no a parte qualche goccia ha piovuto sabato e poi poi basta quindi in realtà si ha fatto un bel diluvio sabato sera c'è stato un momento in cui veniva giù proprio forte l'acqua però poi dopo basta non ha piovuto più e rimasto tutto secco secondo me non ha neanche fatto in tempo a bagnare un po però vedete questa è la situazione meteo io sto facendo proprio una camminatina rapida in dolore di fronte a casa perché dopo due giorni chiusa in casa capirete con sta schiena balenga avevo proprio bisogno di uscire mezz'oretta poi vabbè in realtà prima siamo andate a fare un pochettino di spesa ho dovuto accompagnare mia mamma a fare un po di commissioni fotocoppie supermercati vari poi mia mamma oggi è arrabbiata vieni vieni qua salutare i nostri amici tanto guarda non ti sto inquadrando ho il telefono dal lato opposto beh non saluti questa asciura qua è diventata anche maleducata non saluta più avvicinati se no non ti sentono non mi sentono ciao a tutti ciao no ma ti devi avvicinare te non devo tirare giù il telefono ragazzi no io mi fa morire perché vuole parlare no però invece che avvicinarsi lei al telefono praticamente mi fa segno di piegarlo in giù però tu devi capire ma che se piego in giù il telefono i nostri amici vedono il pavimento quindi forse sarebbe più opportuno se ti avvicinassi te cosa dici si va bene no poverina la capisco abbiamo 10 centimetri differenza e effettivamente si mette in punta di piedi però dai ce la possiamo fare ma no stavamo dicendo tornando a noi oggi perché sei arrabbiata ce l'hai su col mercadona ce l'hai su con i supermercati cosa è successo dovete sapere che prima l'ho portata no prima è stata in farmacia a Sonneran poi al mercadona di Meloniera e cosa è successo non c'era più niente no aspetta aspetta facciamo le dovute precisazioni avendo appunto un po' la schiena un po' birichina in questi giorni ho accompagnato mia mamma ma in realtà non sono entrata al supermercato sono rimasta giù in macchina per non fare su e giù è entrata da sola vedo che scende giù al parcheggio incavolata nera ah non c'era niente ma cos'è successo? c'ha raccontaci mancava tutto non c'era frutta non c'erano progne non c'erano non c'era l'angoria nel reparto surgelati l'anguria adesso mamma è un periodo che non è suo sì però vabbè poi non c'era il minestrone ma non c'era niente tutti i scaffali vuoti c'erano gli scaffali vuoti ma perché sabato dovete sapere che sabato 12 ottobre è stata festa nazionale di Spagna quindi probabilmente il mercadona era chiuso sabato e domenica beh domenica sempre chiuso sempre e quindi avendo fatto due giorni di chiusura tu dici che non avevano ancora sistemato gli scaffali no no stavano mettendo ancora roba ma no no però era già pomeriggio eppure mancava un sacco di roba c'era tanta gente sono arrivati i turisti stanno arrivando un po' i turisti tedeschi gente del nord tra ottobre e novembre arrivano tutti ecco perciò non mi è piaciuto per niente oggi mercadona bocciato bocciato e dopo il mercadona dove siamo andati? non mi ricordo già più rimbambita alla... non mi ricordo più alla Lidl? dal mercadona subito a Lidl? no Aldi no no l'Aldi l'abbiamo fatto no scusa non ci andate a fare le fotocopie prima? si fotocopie poi siamo andati a Laldi no e l'Iperdino? ah mamma mia non mi ricordo più niente avete presente il film scemo e più scemo più scemo qui non si capisce chi delle due è più rinco no allora allora dopo il mercadona le fotocopie giusto? si no l'Iperdino 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 e cosa abbiamo preso l'Iperdino? niente no cos'è che abbiamo preso? mi ricordo più ah ho trovato gli stampini dei biscotti per Halloween a forma di tomba e di fantasma tutti pazzi per Halloween Halloween mania guardate mi sono fatta anche le tips poi cosa abbiamo preso? no ma in realtà adesso scusate un piccolo inciso giusto per specificare la storia di Halloween ci sono sempre polemiche quando arriva a fine mese perché c'è chi dice che è una festa satanista di qui e di là allora io premesso che io non festeggio Halloween quindi noi non festeggiamo un tubo mi piace un po' il clima che si viene a creare no? tutte queste queste cosine simpatiche queste zucche molto autunnali che vengono vendute così però in realtà se vi informate bene non c'è niente di satanico perché Halloween come io avevo già scritto in un post l'anno scorso sempre sul canale si è andata a cercare nella community in realtà in origine nacque come festa per celebrare il raccolto ora non ricordo di quale paese dovete andare a sbirciare un vecchio posto poi eventualmente a casa cerco quindi era nata proprio per per questa cosa qua poi dopo che si va in giro con questi teschi che il giorno dopo è i santi poi i morti qual è un altro discorso però io non ci vedo nulla di male se i bambini si divertono un po' come a carnevale con i dolcetti e cose varie non ci leggo nulla di satanico tanto più che le sue origini sono tutt'altre comunque tornando a noi a Liperdino abbiamo preso gli come si chiama gli stampini per i biscotti poi ci fermiamo un attimo perché traballa tutto non mi ricordo cosa abbiamo preso cosa abbiamo preso a Liperdino non mi ricordo ah sì abbiamo preso la pasta la pasta in offerta della garofalo molisana molisana quella trafilata al bronzo quella colorata gli spinaci pomodoro ma non mi ricordo che poi ragazzi non sa né di spinaci né di pomodoro e poi abbiamo preso il riso no io ho preso il riso integrale anche le penne integrali sempre dalla molisana ah ok a 1 euro e 60 ah 1 euro e 60 le penne integrali della molisana invece a 1 euro ma tu dici guarda che era della garofalo quelli fusili tricolore ah non mi ricordo non ci ricordiamo ma se uno vale l'altro tanto è uguale e poi ho preso il riso integrale poi cos'altro abbiamo preso niente ma sì la frutta cosa che hai preso di frutta le banane le banane le banane in offerta 95 centesimi al chilo e basta e basta poi via di lì siamo andati a fare fotocopie fotocopie sì fotocopie perché dovete sapere ragazzi che qui chi viene a vivere come pensionato raccontaci un po' c'è il problema dell'esistenza in vita cosa sarebbe in poche parole magari alcuni non lo sanno è un documento che arriva dalla Citibank che va timbrato qua la Citibank che ha la sede a Londra ovviamente la sede a Londra certo arriva da Londra viene un foglio che arriva a casa va compilato e va timbrato col timbro qua del console quindi se siete per esempio a Gran Canaria vi arriva a Gran Canaria dovete portarlo al consolato farlo timbrare o Tenerife e Forteventura quello in base a dove siete si timbra e si rispedisce alla Citibank con la busta che danno loro già prestampata entro il 18 di gennaio perché se non ricevono questo documento la pensione per il momento viene bloccata viene bloccata perché risulta che siete morti in poche parole ecco perché lo chiamano esistenza in vita voi dovete certificare che siete vivi e vegeti altrimenti quindi se io voglio come mi ha proposto il giardiniere sgozzare mia mamma e refrigerarla nel congelatore ahimè non posso perché c'è questo certificato dell'esistenza in vita che me lo impedisce bisogna spedirlo si sta scherzando ha legato la fotocopia della carta di identità di solito la Citibank che lo manda da settembre a dicembre ecco se uno non lo riceve lo dovrà stampare ecco quello non lo so io fino adesso ho sempre ricevuto l'ho sempre mandato non mi hanno mai bloccato niente speriamo quindi vedete anche se siete pensionati comunque siete sempre un po' legati al paese d'origine nel senso che insomma ragazzi ci controllano dove siamo cosa facciamo e tutto il resto ma torniamo a noi quindi siamo andati appunto a fare le fotocopie del certificato dell'esistenza in vita poi una copia me la tengo perché io mando l'originale ma se mi dico non mi ha ricevuto niente io ho la fotocopia mando tramite mail faccio vedere che io l'ho spedito e ho tutto il solo regolare mia mamma è previdente da buona milanese è scrupolosa noi siamo un po' pignoli ecco vabbè comunque tornando a noi via delle fotocopie dove è che siamo andati? siamo tornati a casa? no siamo andati all'Aldi ah siamo andati all'Aldi quindi supermercato numero 3 ricapitolando Mercadona il Piadino e Aldi e all'Aldi cosa abbiamo preso? un tubo? siamo entrate e uscite perché non c'era niente sì poca roba cosa è che c'era? abbiamo preso qualcosa in offerta ma non ricordo non mi ricordo la pizza di scorta ah sì no ma la pizza di scorta no scusate aspettate perché qui c'è troppo rumore no mamma guarda che ti confondi con la spesa precedente l'avevamo già presa l'altra volta cos'è che abbiamo preso oggi all'Aldi? madonna che l'apsus non mi ricordo vabbè praticamente ah sì cercavamo la ricotta quella di capra buonissima prodotto canario che noi usiamo per fare l'erbazzone ma non c'era più l'hanno proprio tolta non la consegnano più e anche i biscotti integrali con le pepite di cioccolato che a mia mamma piacciono tanto sì non c'erano più non c'erano più esatto siamo uscite quasi a mani vuote sì perché la frutta non mi piaceva no sì c'erano le mele tutte aperte nel sacchetto già tutto rotto poi hanno un sistema strano qui all'Aldi perché quando finisce un prodotto non è che lo rimettono sì non fanno risortimento non c'è più magari passa un mese e non c'è più basta non trovi neanche il cartellino e non basta non si trova sì di solito negli altri supermercati quando finisce un prodotto a limite trovate vuoto però poi sotto rimane lo scontrino del prezzo e a limite buona settimana così lo rimettono invece qua ti rambia tutto quindi ricotta sparita biscotti spariti poi c'erano un sacco di schifezzine già i torroni di Natale panettone ah ecco il panettone quanto l'hai visto? quanto costa il panettone? che hai detto è come caro ma forse era l'Iperdino l'Iperdino costava 11,90 quanto il peso? mi sembra 9 etti sì quasi un chilo ma di che marca? ah non lo so sì insomma non era né bauli né no assolutamente era seminominato anche il Pandora 8,90 aspettate ragazzi che attraversiamo aspettate perché qua abbiamo precedenza noi sulle strisce però sono matti io farei il giro contrario altrimenti mamma qua perché dovete sapere una cosa noi siamo quasi arrivati a casa che quando si passa di qua è pieno di tombini di archete c'è una puzza di pogna nauseabonda quindi facciamo il giro opposto facciamo il giro e quindi dicevi del panettone? che sono carissimi sono aumentati tantissimo sì 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 i prezzi ogni volta che si va al supermercato ah per esempio ho notato che alla Lidl il formaggio cottage tipo fiocchi di latte fino a qualche mese fa tempo fa o due un paio di mesi fa perché io non lo prendo da un paio di mesi costava 89 99 centesimi oggi l'ho visto a 1 euro e 70 è praticamente quasi il doppio no praticamente il doppio insomma vedete come come fanno in fretta dalla sera alla mattina quindi a Laldi l'abbiamo bocciato perché non c'era un tubo oggi solo un sacco di schifezze sì 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 via da Laldi siamo tornati a casa perché? perché dovevo mettere il salmone nel freezer sì perché voi dite sempre ma tu non compri carne e non compri pesce no no abbiamo preso solo che noi purtroppo prendiamo surgelato perché non è che qua voi dite ma il pesce è come alle canarie il pesce è alle canarie il pesce è buono andate nel sud Italia qui sì qualcosa di buono si trova però sapete com'è la storia dei supermercati i poli sono gonfiati il pesce è quello che è noi per praticità salmone congelato surgelato mettiamola così dai per adesso è così poi vedremo quindi siamo tornati a casa e poi siamo andati alla Lidl perché hai dovuto sistemare nel freezer sì sì per forza poi siamo andati alla Lidl la Lidl e basta? basta la Lidl cosa abbiamo preso? beh abbiamo fatto la nostra spesa sospesa sì che c'era un signore lì gli abbiamo dato una bella borsa con dentro yogurt poi cos'è lì che gli abbiamo messo? dolcetti pane un po' di cose biscotti pancarello e ha mangiato subito lo yogurt quindi meno male dai e poi ho salutato da lontano la nostra solita amica con la signora che gli diamo sempre qualcosa però stava andando via quindi insomma ci siamo salutate prossimo giro e alla Lidl c'erano un sacco di cose vero? c'erano gli avanzi della settimana italiana sì c'erano gli avanzi di quella cinese sì io ho preso yogurt roba di aloe laima e mascarpone yogurt ah gulosona eh sì lo yogurt dell'italiano sì e poi cos'è che non mi ricordo più anche poi ragazzi voi direte ma non facevi prima arrivare a casa a farlo suota la spesa avete ragione infatti non c'era in programma questo video volevo soltanto aggiornarvi sul meteo poi chiacchiera chiacchiera sem chi come si dice a milan basta non abbiamo fatto nient'altro abbiamo preso la frutta ho preso i kiwi abbiamo preso i pomodorini la pasta sfoglia ah sì non c'erano i pomodorini tricolore che mi piacciono tanto c'erano quelli cherry pera fa niente e abbiamo preso quelli infatti io non li mangio ma non piace li mangio io poi cos'è che abbiamo preso dicevi no ho preso i kiwi le mele no magari non ti hanno sentito ti devi avvicinare kiwi mele sì le golden no quelle rosse quelle rosse questa volta e poi basta basta mi ricordo sì sì vabbè non è che abbiamo fatto grande spesa anche perché avevamo il frigorifero già abbastanza pieno settimana scorsa abbiamo già fatto una piccola scorta siamo usciti solo un paio di volte perché ripeto non so se l'umidità che è penetrata sa il cavolo sta schiena un po' peggiorata e cerco di uscire proprio lo stretto necessario guardate mia mamma guardate la spiona guarda si mette a spiare chi c'è in piscina non c'è nessuno non c'è nessuno sì perché da qui praticamente si vedono da questo spioncino qua si vedono le nostre sdraio della piscina vedete e noi passando dal retro mamma saluta almeno te fatti vedere perché io sono dall'altra parte eccola lì perché hai jeans lunghi c'hai caldo ti sei pentita sì perché dovete sapere che prima di uscire c'era una rietta bella freschina allora tutte e due in pantaloni lunghi pure io solo che mia mamma sta morendo di caldo io con i leggings sono abituata siamo di qui noi eh pronti pronti e via pronti vabbè ragazzi scusate per questo vlog un po' così estemporaneo un po' un po' svitato come noi comunque insomma avete visto la situazione meteo eh di qua sole e di qua nuvolò e voilà quindi ragazzi noi siamo arrivati a casa dove sta andando ma dove vai mamma vado a fare un giro come vado a fare un giro ma cosa sta facendo cosa fai in macchina vado a mettere su un parasole ah mette il parasole ma che gentile vabbè niente noi siamo arrivate dai che dire aggiornamento meteofatto chiacchiere anche stupidaggini dette vabbè insomma spero di riuscire a caricare il video appena rientro a casa giusto il tempo di farmi una doccetta e poi carico il video e mi stendo perché sono KO come raccontavo privatamente a chi mi ha scritto in questi giorni purtroppo diciamo che ultimamente ho dovuto sospendere la fisioterapia perché questa schiena ripeto fa i capricci e non se ne viene fuori quindi adesso fine mese vedrò un altro specialista e vediamo un po' vediamo un po' come procede l'ambaradan anche perché insomma con un trasloco in programma io non pretendo di guarire all'istante anche se dopo quattro anni me lo meriterei anche però quantomeno che mi metta in condizioni di potermi spostare ecco perché se un giorno esce tre giorni sta a letto la vedo grigia comunque dai speriamo bene tutto a posto? tutto a posto niente io sto già salutando saluti anche tu? ciao ragazzi ci vediamo in un nuovo vlog allora e scusate per questo momento così un po' improvvisato alla prossima e un bacione mi raccomando e non perdetevi il telegiornale perché in settimana ho selezionato per voi delle notizie molto interessanti e curiose alla prossima buona serata a tutti ciao